Martedì 6 giugno al Teatro Augusteo alle 20 e 30 andrà in scena lo spettacolo di danza Femmina non domina a cura del Centro Internazionale Lab Art Dance di Claudia Sales. È un progetto artistico che rilegge il tema della violenza di genere in chiave inedita, quella dell'integrazione maschile-femminile basata sul riconoscimento reciproco ed è promosso con il patrocinio del Comune e la collaborazione del gruppo di imprese sociali e della cooperativa ERA. Ho voluto creare uno spettacolo femmina che in qualche modo vuole rivendicare l'emancipazione femminile e aiutare appunto il femminile a trovare il suo spazio, a realizzare il suo karma e a identificarsi nella sua autenticità. L'iniziativa presentata questa mattina nella Sala Nunes di Via Verdi con il presidente del Consiglio Comunale Sandro Fucito vuole essere occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza sulle donne ed ha visto tra gli altri la presenza dell'attore e coreografo Gabriele Rossi testimonial del progetto. Tutto lo spettacolo nasce da un mio vissuto traumatico in cui sono stata privata appunto della mia autonomia artistica, professionale ed umana. A volte una donna cerca di costruire qualcosa di prestigioso, di imponente che possa offrire delle opportunità ad altri esseri umani, in questo caso danzatori, professionisti internazionali, di realizzarsi con l'arte della danza. E purtroppo anche proprio nel nostro mondo, che dovrebbe essere un mondo di arte, di valori, ci ritroviamo a subire appunto la competizione maschile e diciamo una società maschile se in qualche modo ci chiede di metterci da parte.